I sindaci e i delegati dei comuni della costa toscana settentrionale, danneggiati dalle violente mareggiate degli scorsi 28 e 30 novembre, hanno incontrato al Museo del Mediterraneo di Livorno il presidente della regione, commissario delegato per l'emergenza toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni per fare il punto sul piano di ripristino delle spiagge della regione. Un piano da 13 milioni e 200 mila euro pronto da dicembre anche grazie ai comuni. Ancora però manca il via libera del governo. Aspettiamo dal governo nazionale l'approvazione del masterplan. Le abbiamo mandato il 21 dicembre e quindi i tempi che stanno passando sono lunghi e adesso noi confidiamo che nel più breve tempo possibile ci arrivi questa autorizzazione altrimenti siamo freddi. All'incontro erano presenti i rappresentanti dei comuni di Massa, Pisa, Livorno, Cecina, Bibbona, San Vincenzo, Marciana, Campo nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro e Rio nell'Elba insieme al presidente della commissione attività produttive del consiglio regionale Gianni Anselmi. Il piano messo a segno da regione e comuni prevede la realizzazione di 39 interventi di ripristino delle spiagge. I comuni sono pronti, si tratta adesso di mettere in campo procedure trasparenti in grado di intercettare tanti soggetti imprenditoriali per dare appunto trasparenza, concorrenzialità e soprattutto avere a disposizione aziende in grado per struttura e per organizzazione di rispettare una tempistica molto ristretta. L'obiettivo a cui regione e comuni della costa puntano è la realizzazione di tutti gli interventi in tempo per salvare la prossima stagione balneare.